Cosa ne pensi delle votazioni di oggi? Ma tu aiuta a votare? Si può avere la tua dichiarazione di voi? Ma che c'è tre volte di cosa? No, che c'è chi ha fanguto. Ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Non ci c'è? Ma chi c'è candidato? Non c'è proprio chi c'è candidato e chi ne... Poi potete mettere la coppa YouTube per questo video? Mettere.